Guardo gli avversari dritti in faccia, rispetto ma niente paura, siamo arrivati fin qui, vogliamo vincere. 11 luglio 2021! Buonasera ragazzi, lo stadio grida, ma vi deve guidare la consapevolezza di aver fatto tutto bene. Avete meritato di essere qui, come noi allora. Siamo orgogliosi di voi, comunque vada. Godetevi, divertitevi, come ha detto il vostro grande mister Roberto Mancini. Ma durante l'Indo ci deve essere solo un pensiero a guidarvi. Una nazione ve lo chiede. Ragazzi siete a Wembley per vincere! Dallo stadio Wembley di Londra, la finale dell'Erapeo Italia-Inghilterra, le squadre si schierano!